Migliorare il mondo è come completare un puzzle. Un pezzo alla volta, le donne e gli uomini del Rotary hanno combattuto la fame, hanno promosso l'alfabetizzazione e stanno realizzando la pace. Rimane molto da fare. Mancano ancora alcuni pezzi al puzzle. E uno di questi sei tu. Scopri come aiutare il Rotary e creare un mondo migliore al sito rotary.org. Rotary. L'umanità in movimento. Questo è un albero che, grazie ai nostri sforzi, non è mai stato abbattuto. Questa è una stampella che non è mai stata necessaria. Questo bambino non ha mai avuto la polio, poiché il vaccino non è mai venuto a mancare, grazie alla generosità di tutti. Aiuta il Rotary a raggiungere la fine della polio. Nel 1985, quando la polio paralizzava mille bambini al giorno, il Rotary International si impegnò a raggiungere l'eradicazione mondiale della polio. Ben presto, dopo l'immunizzazione di due miliardi di bambini, l'obiettivo sarà raggiunto. E radicare la polio dal mondo. Questa è l'umanità in movimento, questo è Rotary. Questa è l'umanità in movimento,